ha battezzato il primo angolo che vedeva e ha messo in porta primo gol in azzurro per Emanuele Giaccherini che c'era andato vicino contro la Francia traversa contro il Brasile, grande parata di Giulio Sassani adesso ha fatto centro, è fondamentale allargare il campo con i tre attaccanti lo fa Cerci, poi prova a servire Gilardino, toccato forse duro ma in maniera regolare 31enne del Valencia de Leogane, squadra haitiana non è poi per Avesca Al Sena indietro per Avesca che allarga verso Guerriè, su Guerriè va Cerci poi Charles Erol, vuole un pressing molto alto dai suoi tre attaccanti in questo inizio Cesare Prandelli Alexandre per Monouma, indietro poi a Avesca a me piace Stefano, quella posizione, lui è abituato a fare all'interno ma le qualità tecniche del ragazzo gli permettono di fare anche il regista tanto spazio per Cerci, Cerci sulla destra, ci mette in mezzo a cercare Gilardino palla di nuovo per il giocatore del Torino, la finta va sul fondo giocatore dei Miami Hattie, impegnati nella finale NBA contro San Antonio intanto la discesa di Diamanti, Giaccherini fermato però, può ripartire in tre passaggi, arriva da tre quarti al portiere però noi dobbiamo abituarci che il possesso palla lo possiamo fare anche col portiere perché è inutile rischiare palla in profondità o verticalizzare quando non c'è spazio Candreva per Gilardino in aria, prova a controllare non è poi rimpallato è controllato da Avesca che può andare al rilancio Candreva ora prova ad andare al Sena grazie Alessandro Antinelli torna a giocare in nazionale Federico Marchetti dopo più di tre, anzi dopo quasi tre anni Italia-Slovacchia la partita che ci estromise dal mondiale sudafricano lui era subentrato a Buffon dopo che Buffon aveva avuto problemi alla schiena nella prima partita contro il intanto un'idea di Candreva il pallone profondo per Gilardino che però non è nemmeno scattato e allora Avesca al Sena ancora Avesca prova ad andare via Giaccherini e rischia ma alla fine difende palla Alexandra il capitano su di lui Diamanti Monouma l'appoggio ad Avesca al Sena poi Avesca quando siamo così coperti e bene bisogna andare a cercare il pressing perché se aspettiamo che loro ci consegnano la palla molte volte succede ma sai quando alzi il livello poi degli avversari questo Candreva Diamanti per probabilmente Desciglio che si era fermato Avesca Avesca il suo rilancio il pallone esce rimessa Charles Erold indietro ad Avesca poi la France Ricordiamo che Haiti è priva del proprio centravanti titolare Belfort che gioca nel Le Mans che è qui presente con un braccio ingessato dopo un uno nel deportivo La Corugna l'anno della retrocessione della squadra galiziana poi il Belenenses dove sta giocando attualmente e il Portogallo il Portogallo dunque Francia Spagna e Portogallo indietro a Monuma La differenza è evidente tu guarda quando la palla è in possesso i due centrali haitiani ci sono quattro giocatori sempre in movimento e poi con il contromovimento cioè portano i nostri giocatori Ecco l'Otelli di tacco per Candreva si inserisce il Sharaw il pallone per lui e il Sharaw l'anticipo molto bello di Avesca Questa è una buona combinazione Monuma venticinquesimo del secondo tempo sempre uno a zero Entrerà Marchisio e poco fa chiarimento abbastanza ruvido tra Aquilani e Ballotelli Ballotelli ha chiesto maggiori rifornimenti ad Aquilani Aquilani ha chiesto maggiori movimenti a Ballotelli che per la verità è piuttosto statico da quando ha fatto ingresso in campo adeguato alla distanza e la velocità della palla fuori Avesca gioca nell'independiente Rivadavia seconda divisione argentina dentro Jerome Meschac